quello che stava facendo e ci stavano imponendo, perché era sbagliato che si imponesse un modello di smaltimento di rifiuti che era quello che è stato imposto. Per rispondere alla persona del WWF che ha parlato prima, io l'ho sentito troppo buono, non è così, stanno imponendo questo modello per favorire interessi economici di poche persone e scordatevi qua a Roma, e scordatevelo, di riuscire a resistere a questa cosa senza che vi impensate in una lotta dura, assolutamente, perché sono interessi economici di centinaia di migliaia di miliardi di Euro, i CIP6 sono una fonte di guadagno per gli imprenditori che non finiscono mai, state attenti, non prendetelo sotto gamba, perché se volete combattere, dovete combattere con qualcosa che è lo Stato e le persone che proteggono, state attenti, questa è la cosa fondamentale, non prendetelo sotto gamba, io ho sentito le parole di quel signore, è stato troppo buono, bisogna essere più cattivi, bisogna sapere contro chi si sta andando contro, perché noi l'abbiamo provato sulla nostra pelle e ci hanno manganellato, perché le persone proteggevano la terra, comunque sono stati vagando, sono arrabbiato.